Idea web con Mirjana Manig, palleggiatrice LPM Bamondo V, siamo alla vigilia della partenza della squadra per Talmassons, domenica in programma l'ottava giornata di pool promozione. Mirjana, un passo indietro con te a parlare di domenica scorsa della bella vittoria con Bustor Sizio, una bella prestazione di tutta la squadra in cui anche te hai avuto una parte determinante. Certo, sono contenta per la vittoria e per come abbiamo giocato di squadra, poi ovviamente anche per il mio ingresso, però già prima la squadra comunque si stava muovendo molto molto bene e aveva preso un buon ritmo e quindi il mio ingresso è stato abbastanza favorito da questo ritmo già spedito della squadra. Ecco, un LPM che comunque nonostante degli obiettivi non più tanto raggiungibili sta dimostrando di tenerci e di voler competere in questa pool promozione fino all'ultima giornata. Certamente, noi comunque vogliamo un pochino riscattarci della prima fase del campionato che non è stata delle migliori e vogliamo dimostrare ciò che avremmo sempre dovuto fare e adesso lo stiamo dimostrando, abbiamo vinto delle partite, tre partite consecutive e ne siamo molto contente. Ecco, con Talmassons all'andata avete già portato a casa un successo, un bel 3-2, un bel successo al tiebreak. Che partita ti aspetti? Sarà combattuta anche questa? Sarà molto molto difficile perché loro comunque in casa, come tante squadre comprese noi, siamo un pochino più determinate, mentre fuori casa loro fanno un pochino più fatica, nonostante siano una buonissima squadra, in casa lo sono al 100%. Grazie mille! Grazie a voi!